Come hai avuto il vento? Siamo contentissimo perché ha usato tutte le mie vele, per cui bene, bene, noi stiamo provando delle vele nuove, siamo contenti. Abbiamo avuto tre giorni un po' alterni, abbiamo avuto qualche problemina in partenza, qualcosa di settaggio, però siamo un po' all'inizio, abbiamo da lavorare, ma sono molto fiducioso. Secondo te cosa vi manca per arrivare a quei due da davanti? Ci manca un po' di allenamento, siamo un equipaggio nuovo, io e Albi ci conosciamo da tanto ma non abbiamo mai navigato insieme, per cui abbiamo una strumentazione nuova per la partenza di cui non siamo ancora abituati, per cui magari ci perdiamo un po' a guardare lo strumento e non guardiamo cosa succede intorno a noi. Penso solo un po' di allenamento, Alberto l'anno scorso non ha navigato tanto con il Melges, quest'anno stiamo rifacendo le cose in maniera fatta bene. L'appuntamento importante sarà a Cagliari, ma ovviamente ad agosto a Tallinn per cui bisogna lavorare per quello, adesso abbiamo un buon programma di allenamento, penso che ci servirà sicuramente all'allenarci e comunque anche da allenati avvicinarsi a loro non è facile.